Buonasera, eccoci sul Maracanã con in diretta la sfida tra Rangers e Furie Russe. Sorprendenti i Rangers che nonostante l'assenza di Daniele Cusano stanno per ora vincendo per un gol sopra, ma le Furie Russe sembrano convintissime con un amato che prova senza la distanza. Gravicano ha la battuta, sbaglia però, avitabile, scambia con Celano, ancora avitabile davanti alla porta, però Scigno recupera per Amato, davanti alla porta, Amato che spreca quest'ottima occasione. Marco Conte, avanti per il numero 11 che attacca di dove è Riccardo, che molto bene esce dalla difesa. Gravicano, palla per Scarano che mette a terra un buon pallone. Scigno, Pescarano, fraseggio, palla avanti per... Avitabile in qualche modo, firma Amato davanti alla porta. Avitabile che ricorda un poco Montero, pallo pide, il giocatore non passa. Casillo alla battuta, non brillantissimo questa sera. Amato al tiro, c'è lungo il partire. L'angolo dei Rangers, numero 11, portano a due le reti di vantaggio. Ora sono davvero in difficoltà, le furie russe, senza tassi pistone, sarà davvero difficile recuperare questa partita. Scigno ancora il tiro da lontano. Buona palla. Amato che ci riprova. Tiro. Francia contro la barriera, un tiro di amore. Vediamo Riccardo lo scendio. Magia. Riccio, parlaci di questa partita, il tuo commento da tecnico. No, è certo. Una partita su tutte e due fronti... Abbattuto. Un po' di ecosismo notiamo in campo. Conte alla battuta. Attenzione per Ruggero. Un po' di confusione. Tre furie russe. Ruggero. Due. Sono troppo imprecisi fosse le furie russe che non riescono a recuperare. Carocino su Conte. Un po' di astro tra i due. Conte che di esperienza guadagna questa punizione. Avanti ancora per Ruggero anticipato bene dal portiere. Rapicano non preciso. Che gesto di sportività. Scarlano si ferma per concedere i soccorsi a chi non vede da lontano. Ruggero a terra. Speriamo non sia niente. Defibrillatori in campo. Non c'è bisogno di defibrillatori. Si è alzato Ruggero. Un defibrillatore. Evitabile ancora in qualche maniera contro Amato. Però ancora Marco Ponte. Prova il doppio passo ma un rocigno attento non si fa superare. Ruggero mette di petto a terra una bella palla. Scarlano sulla sinistra. Buona palla. Per Rapicano un po' troppo lezioso fosse in questo colpo. Il giro. Amato non si fa saltare. Ancora evitabile. Gestisce valla difesa. Per Celano che non aggancia. Scigno. Che sbaglia il passaggio anche a Marco Ponte. Però abbiamo provato lo schema che in settimana in allenamento però non va. Ancora Amato. Amato sembra che voglia sfidare il mondo questa sera. non passa la palla. Amato sulla battuta di un'altra faccia di punizione. Scarlano. Per poco. Ci suggeriscono. Negli spalti. scarlano. Ancora Amato. Amato in qualche modo. Scarlano. Fidiamo qui il collegamento con i Rangers in attacco quando sembra che ormai le speranze delle furie russi di rimunta siano concluse Un saluto da Davide Riccio è il cameraman